Questa creatura percorre la nostra via solo da poco tempo, ma i suoi passi hanno risuonato per tutte le sale degli ascesi. Al servizio della nostra causa, ha difeso i nostri templi dalle invasioni, ha rivelato il tradimento di Denatrius e ha sfidato gli orrori della fauce stessa. In questo giorno l'accogliamo nella nostra sacra congrega. Insieme riporteremo la pace e l'ordine in questo regno. Gloria al bastione!